Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video della Crazy Craft Mi raccomando ragazzotti iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi mai nessunissimo video E come sempre vi ricordo che questa serie qui la faccio in live Tutti i martedì e i giovedì e oggi appunto alle 19 mi troverete in live Link in descrizione, non mancate Detto questo vi lascio al video L'obiettivo di oggi ragazzi è triste, nel senso A cosa miriamo oggi? Miriamo alle solite cose Portale e magari craftare qualche oggetto nuovo Aramatore e svectrite? Eh magari Ah è vero! Dovevamo fare anche, guardate un pochettino La farm, cioè no la farm, il posto per questi due qua nuovi Che sono Franci che è un sabbino di livello 2 E Dragon che è un sabbino di livello 3 Perché vi ricordo che le sabbine di livello 2 fanno spawnare questo E quelle di livello 3 fanno spawnare quest'altro Quindi, gli MK3, anche gli MK3 vanno fatti Ah già è vero che poi gli MK3 ce l'avamo già partiti avanti perché hanno fatto questo Si è visto anche in video E poi tipo, ah no ma non c'è fatto nulla con quello che ha craftato Esatto, non c'ho fatto assolutamente niente L'ho lasciato lì Abbiamo tutto pieno qui? Iiii Buttiamo via un pochettino di cose inutili allora Comunque, tornando alle cose serie Dobbiamo assolutamente levare questi qua In verità assolutamente no Però vogliamo farlo ovviamente Perché vanno potenziati ad MK3 Ora, noi quante robettine abbiamo da spendere Che tanto lo dovremmo rifare anche dopo Uh, abbiamo un botto di roba da spendere Bene, 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 bene Quindi, meschiamoli Dovrebbe essere semplicemente fatto così Ok Poi si va a memorizzare Si bruciano tutti quelli che abbiamo E li moltiplichiamo a livelli estremi 3 Beh, non è male Non mi lamento Però se li andiamo a modificare tutti non è meglio Sì, sì, dai, leviamoli tutti Leviamoli tutti Così almeno ci portiamo avantissimo Bruciamo questi 7 Prendiamo il più possibile di MK3 Ne abbiamo soltanto 5 E costano se... Eh no, se brucio qualcosettina Magari riesco ad ottenerne anche un altro, eh Ci devo riuscire Ragazzi, stavo per cliccare col destro Vicino al Destruction Catalyst Leviamolo dall'inventario Prima che sia troppo tardi Quello è veramente distruttivo Ah, è vero Abbiamo messo a cuocere l'oro Con tutto questo oro Magari, se ci va bene Riusciamo a fare un altro pochettino Vediamo un pochettino Quanto siamo Dove li ho messi Li ho rimessi qua dentro Sono uno stupido Ma cosa combino nella mia vita, veramente Dai, mettiamo qua dentro Bruciamo tutto 700.000 Riesco a prendere un altro Siamo a 6 Li possiamo mettere fuori ora Perfetto Io spero che questi qua neri Gli stiano dietro Sì, sì, sì Si alza e si riabbassa subito Quindi sta dietro benissimo E guardate quanto si riempie Velocemente ragazzi Stiamo già potenziando A livelli estremi Questa farmalizzissima Già che sono qui Però prendo un altro Di Epic Bacon Perché l'ho bruciato tutto Quindi niente Metti la cobblestone compressa No ragazzi Gli metto a produrre questo Perché comunque mi serve Produrre il cibo Cioè ci sta Alla fine come cosa E uno stack vale 64.000 Per chi vale di 1.001 E anche ipoteticamente Ci fa capire bene Quanto stiamo producendo Perché ogni Pesettino vale mille Vorrei prendere un po' Di staccionata A dire il vero Perché come ho detto Vorrei fare il recinto Di quei mob là Quindi No prendiamo direttamente Come si chiamavano Però le staccionate Oddio ragazzi Ogni volta I vuoti Guardate E me le faccio io a mano Che ogni volta Ho i mega dubbi Veramente Su come si chiamano Fence Le fence Le fence Questo è il gate E ora facciamoci Un pochettino Di quella Uh Aio Che dolore Che dolore No così sto facendo Le stesse Chi è stato Chi è stato Dalis Dalis Mamma mia Ce l'hai fatta Ce l'hai fatta Finalmente Ce l'hai fatta dopo 3000 anni A fare il sabone Dopo 10.000 tentativi Tutto Dove le mettiamo ragazzi Questi animali Io avevo detto Che avrei fatto scegliere Agli saboni Di livello 2 Di livello 3 Pit Dimite allora Già che non l'ho chiesto Sul gruppo Perché me lo sono scordato Dove lo metto I due recinti Io ve li mettiamo Da questa parte Descrivi a parole tu Ovviamente Di dietro casa Davanti a casa Non lo so Non lo so Soprattetto ragazzi No Soprattetto non lo faccio Non lo faccio Eneo Eneo Grazie mille per i 16 mesi Sull'isola in sabbia Lì Lo vuoi lì? Seriamente lo vuoi lì? Greve Vabbè raga Non mi posso opporre Ha scelto lui Però devo prendere una palla Almeno Va bene Allora metteremo lì Tutti gli animali Il punto è che cavolo Dovrò farci un recinto Comunque Vabbè Almeno non è troppo distante Si può fare Si può fare Comunque Ho una palla Ah se ce l'ho non la vedo Ma potrei craftarmene Ovviamente Facciamo le contestare Ce la facciamo in diamante Ma si dai Ma chi se ne prega Siamo ricchi Ma in verità Minecraft SCP Il problema è che La gente Non ama i mod Perché No No raga Non scrivete F Non è successo nulla Raga non è successo niente No raga Perché state spammando F Che è successo? Io non ho fatto niente Tanto Didier non c'è Didier non vede Didier non vede E cuore non duole No? E faceva così il proverbio Vero? Guarda il ventario Un'altra sinistra Avemo una palla in diamante Beh la posso Non è grave ragazzi Vi ricordo che le posso Rivendere al prezzo Normale le cose Non ci ho fatto caso Ok Si rivende easy la palla Non ci ho fatto caso Veramente Raga stavolta cerchiamo Di non fare danni però eh Con il martello Ok Cerchiamo di prendere Con la portal gun Gli animali Ok era l'altro No era l'altro Era l'altro Era l'altro Era l'altro Ragazzi era l'altro Non so cosa ma era un altro E qua e qua ragazzi E qua e Franci qua Franci qua e qua Franci qua ed è vivo Raga Franci è vivo Mi ha preso un colpo Lascia le penne Non è morto Perde il piumaggio Uuuuh Io l'ho vista malissimo Ragazzi Io l'ho vista malissimo E tecca Là ci siamo di nuovo È successo ancora Ma è grasso E come si fa? Ah ok Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Possiamo andare No 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 Chi ha fatto? Ma l'ha accucciato L'ha zoppato Ragazzi È vivo eh Penso Ehi Dragon t'ha a posto? Sta dormendo mi dite? Va bene Io Facciamo Facciamo che vi credo Facciamo Facciamo che Credo a questa cosa Ragazzi non lo so Oggi mi stanno prendendo Gli infartini Veramente Oggi mi prendono Gli infartini Ve lo dico E trovo in casa Travo le piume Non vedo il picoso qua Poi esco di casa E questo qui mi sa zoppa Eh ok ma non Non sarei mai addormentato prima Ragazzi Se permettete Mi piglia un po' male Allora Tutto a posto Anche questo Vedete Ma sapete perché? Ve lo dico io In casa non dormivano Dormono soltanto Quando stanno fuori E quando stanno all'aperto Allora andiamo in caverna ragazzi Si è detto di andare in caverna E noi andiamo in caverna La nostra clean star è piena Mettiamoci il destruction catalyst In mano E andiamo a leggere Di nuovo qualche materiale Un pochettino lezzo Intanto qua Ne approfitto per mettere A cuocere questo E ho altro da cuocere qua A occhio no Possiamo andare giù Possiamo andare giù Ah io Eh vabbè Cibo 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 Non mi sono portato il cibo in caverna Ma sono serio Va bene Tendiamoci in casetta un attimo allora Cioè ragazzi Guardate quanto cavolo Ho già farmato Poi fate voi Allora perché ti dico Dico che è morto Non è vero infatti Non è vero Dado non è vero Io non ho mai sceso il tuo Guarda Potrei anche andare a fartelo vedere Vediamo Dadde 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 Ehm Chi sarà dadde Questo è jungle Questo è pit E tu sei l'altro Sabri Ehm Vabbè raga Stavo dicendo Mi serviva il cibo Ok Mi serviva il cibo Dove lo trovo il cibo In questo mod pack Uno stacchino potrebbe bastare Mangiamo E scendiamo Che mod usi per le penitenze Non esiste una e una soltanto Non esistono varianti Quindi E' quella Tu lo sai qual è E' quella Esatto E' proprio quella Perché non esistono altre Uh Così da nulla Ci piace ragazzi Piove Piove Spettrite dal cielo Effettivamente Non l'avevamo ancora trovata In questo modo Ovvero che proprio Si andava a scavare E ce la buttava brutalmente davanti Molto molto buono ragazzotti Pensavo anche A un certo punto ho detto Dai Non me la dà Secondo me Se io ci vado così Non me la dà Perché è impossibile Che di tutte le scavate Che abbia fatto Non abbia trovato nemmeno un pezzettino E invece Ehm Avevo so tanto sfiga Avevo so tanto sfiga ragazzotti A me non le comprate voi le cose Ve le comprate i genitori Però vi assicuro Che se voi noleggiate una cosa La cosa è vostra Ancora prima di averla comprata Realmente Quindi Emerald è mio Emerald è mio ragazzi Ora ovviamente Non voglio oggettificare Un corpo maschile Però Eva l'ha comprato Non noleggiato Ma io mica ho detto Di averlo noleggiato Io ho detto Di averlo Ehm Oh Oh Ragazzi Due spettrite gem No raga Una vena E' una vena di spettrite Quella L'avete visto Diamanti anche Non ci credo raga Ma che fortuna Ma che fortuna Ma stiamo scherzando Prendo prima questi Anche se lo rende prima La spettrite Ragazzi Questo invece non lo è Questo è cristal E questo è cristal invece Ragazzi Cinque di spettrite E allora Qua abbiamo un problemino Ragazzotti Nel senso Abbiamo preso i diamantini Abbiamo preso tutte le cose Però Purtroppo Abbiamo finito I spazi Nell'inventario E abbiamo finito Anche l'energia Di conseguenza Non sta più andando Benissimo La nostra roba qua Dovremmo tornare A parte abbiamo uno stack Di diamanti Torniamo subito A casa Altro che non c'è da aspettare Qui Eh ragazzi 64 di Veio il ferro Comincerei anche a buttarlo Sinceramente Sinceramente Sì La spettrite Ce la diamo qua E anzi Mettiamola direttamente Qua dentro nella chest Sette pezzi in tutto Ragazzi Sette pezzi Un altro pezzo solo E finisco in caverna Finisco E poi andiamo a scavare Altre cosettine No Devo ricaricare La clean star Prima Se no Non andiamo a nessuna parte Ok Un milione Ragazzi Abbiamo fatto Un milione DMC Sono altri Due o tre Completamente da zero DMK3 Penivisione notturna Ma non lo so Raga Non lo so Non lo so Non lo so Petoselot NetVision Sembra easy Vero Beh Che dite Si vede meglio Ragazzi Ma è un pugno Nell'occhio Ora E' tutto straluminoso No E' sponato L'evocatore E sto prendendo No E' la fine Se spona L'evocatore Prendo anche danno Ragazzi E' la fine E' dovuto Se lagga anche Due Due no eh Metto il portale Intanto Aio No vado a casa Vado a casa Mi tipo a casa Mi tipo a casa Non mi seguirà Fino a lì Allora intanto Vediamo di fare il tablet Vediamo intanto Se si può fare il tablet Perché non so se è costoso Quindi tablet C'è anche l'arcano eh Uff Vediamo quello normale Si fa con la Transmutation Table Normale Della Dark Matter Semplicissima E della Chiseled Stone Quindi vuole 4 di stone Della Dark Un cubo di Dark Matter E una Transmutation table La Transmutation Però si faceva con Ossidiana Stone Quindi 8 di stone 4 di Ossidiana In poche parole Però mi sa che sono molto Molto costosi Ragazzi stiamo investendo tutto Uuuuh Stiamo veramente Non ce la facciamo Quanto costa? Scusatemi in tablet 2 milioni 2 milioni 2 milioni Non possiamo farcelo Beh intanto Mi faccio L'altra Transmutation table Comunque facciamo questa Intanto è già qualcosa La rimettiamo Qua dentro E dobbiamo provare a bruciare E un oggetto Un oggetto strastracostoso Questo non sembra Non è veramente Ultracostoso Cosa faremo vendere? Nulla Sto continuando a cercare Questi oggetti Butto via un po' di questo Non lo so Un po' di blocchi di ferro Nulla Dobbiamo aspettare Dobbiamo Aspettare Di avere un altro po' di materiali E appena risaliamo Ce lo facciamo E facciamo le big cose Oltre alla Transmutation table C'era anche Un adeggino Che trasmutava Tutta la cobblestone Che avevano oggetti superiori O tipo in iron Eccetera Sì lo so Era un anello Quello lì Era un anello Non so che anello Però era un anello Cioè non che ce ne siano molti Sono veramente pochi Però Di fatto è a senso prenderlo Sicuramente sì Ho voglia di farlo Ragà 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 Ho visto Ho visto tutto Ho visto tutto Ho visto Veramente Tutto Un pezzo di spectrite E Vediamo prima questo Prima di morirci Cioè c'è C'è materiali strani ovunque Veramente E un altro pezzettino Ragazzi Due C'è mezz'ora così Un'ora così E non trovare nulla E poi due pezzi Di spectrite E mi si è scaricato Tutto di nuovo Wow Portalino Ce ne torniamo Brutalmente a casa E raga Allora Prima cosa Mi svuoto l'inventario Da tutte queste robe Che ho trovato Molte vanno buttate Indubbiamente Perché non ci servono Mettiamolo così Questa Transmission table Al centro Che forse È messo in memorizzo Potrebbe servirmi in futuro Quindi La memorizzo per non rifarla Non ho mai voglia di rifare le cose Quindi mettiamola così Questo al bordo Questo così E ragazzi Abbiamo Transmission tablet Che per non ricraftarlo Lo andiamo a memorizzare Che poi ripeto Il problema non è Craftare gli oggetti È proprio realmente parlando Il valore degli oggetti Il valore In questo modo ragazzi Perché è così bello E costoso questo oggetto Ve lo spiego Per chi non sapesse È La stessa identica cosa Che abbiamo in casa Che non costa nulla Ma Ci abbiamo portatile Ci abbiamo portatile Con tutta la stessa MC dentro Quindi se io ad esempio Ci siamo a 181 Perché l'avevamo bruciata Dentro una cosa Se faccio così 189.000 C'è anche dentro 189.000 È tutto completamente Diciamo Unito E perfetto Quindi È veramente ottima Come cosa Un'altra cosa Molto importante È che io posso fare Gli MC Che vengono trasferiti Direttamente Nella crafting table Nella crafting table Ma è nella Transmutation table Questa cosa qui si fa Con i pot Oppure con i link Ma non mi sono ancora Informato benissimo So che i pot Lo farò in automatico Però vediamo appunto I pot Cos'hanno di Così particolari Da farlo in automatico Hanno effettivamente Il personal MC link Dovrebbe essere questo qua Che si fa con Oh mio dio Costa 20 milioni Solo questo 20 No 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 Scherzo Scherzo Non si fa Non si fa Raga purtroppo Deve andare in caverna Anzi no Esploriamo Ma raga esploriamo Esploriamo lo stesso E chi se ne frega Ve l'avevo detto Ho detto appena Appena Trovavo altri aggegini Altre Gemme Queste qua Di speccherite gem Si è andato a esplorare E notte Non mi interessa Andiamo a esplorare lo stesso Non è il nostro problema Quindi andiamo fuori È un po' pericoloso E la notte Quella un pochettino Lezza Ma comunque Ce la dovremmo fare Ah vedete il perché litta Perché io girando così Uff Ragazzi No 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 Fermi 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 C'è qualcosa che mi fa malissimo C'è qualcosa che mi fa malissimo Non so cosa Cosa che è Che c'era lì O era il toro gigante O uno di quelli L'armatura è intatta ragazzi Mi ha fatto un botto male Mi ha fatto un botto male Ok Del focus Non è nemmeno necessario Magic beam 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 È un coso da esplorare questo eh Va piantato Non si pianta qua Troviamo a casa ragazzi Troviamo a casa Che abbiamo fatto Abbiamo trovato una runa Non mi lamento assolutamente Ripeto Non mi lamento Cos'è Sembra buono Buona Questa è costosetta come cosa Un'altra mela dorina Un mela d'oro Si ci può stare Una Accetta scura O scura Il valore è basso Ma c'è anche l'arco Tecnicamente buono Hanno degli incantamenti particolari Ma non mi sembrano interessanti Roba inutili Le wand Mi dice sempre di prenderle Ma non mi va di prenderle Diamond Do ragazzi E un'altra Oh che palle Sempre la stessa E tra l'altro è vero Abbiamo il coso di aero così Possiamo bruciare tutto subito Guardate che bello Guardate un po' che bello E questo coso qui Possiamo anche craftarlo Cioè Possiamo memorizzarlo Quindi tutto sommato Se lo andiamo a sprecare Buono lo stesso Buono lo stesso Allora la direzione Era sempre giusta Quindi No fermi tutti Prima voglio controllare Se c'è altro sopra Non si sa mai eh Sì ce n'è una qua sopra Le ceste Abbiamo trovato Un drago Un uovo di drago Figata Figata E siccome sta già qui Tecnicamente Dobbiamo soltanto aspettare Che Che si schiuda E non può fare nient'altro Va benissimo Salviamoci anche questo posto Allora Allora Io non ero interessato A fare i draghi In questa serie qua Però Tra averlo E non averlo Beh facciamocelo Facciamocelo ragazzi Facciamocelo Qua abbiamo Il nostro Coso Proviamo a piantarlo Qua in questo punto Oh mio dio ragazzi Serviva veramente L'erbettina Così Percentuale di crescita Zero per cento Ma sapete ragazzi Che vi dico Che noi ci vediamo qua No niente Bon meal ragazzi Niente Bon meal Lo andremo a vedere Nel prossimo Se lo rompo Si rompe del tutto No ok Me lo ridà Me lo ridà Ragazzi nel prossimo episodio Pianteremo E faremo crescere La pianta Di magic bean Quindi si presuppone Che Questi fagioli magici Vadano a crescere A livelli estremi Ragazzi